Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è in Sicilia per una serie di iniziative sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Prima tappa a Marsala nel Trapanese per un bene destinato dal comune a ospitare il centro socioeducativo e giusti di Sicilia. Altra cerimonia in prefettura a Palermo per la firma di un accordo tra l'Agenzia Nazionale che appunto si occupa dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la regione siciliana.